Ciao a tutti ragazzi, per quanto riguarda il programma di Italiano di Quarta, oggi vedremo Tasso. Tasso nasce a Sorrento nel 1544 e passa i primi 10 anni della sua vita insieme alla madre. Il padre infatti svolge ruoli diplomatici e quindi gira un po' tutta l'Italia. Nel 54 raggiunge il padre e per suo sommo dispiacere, cosa che in qualche modo lo segnerà per tutta la vita, non potrà salutare sua madre che muore improvvisamente due anni dopo. Nel 57 si trova a Rubino, presso la corte di Guido Baldo, in Montefeltro, e fa il precettore del figlio Francesco Maria. Due anni dopo però raggiunge il padre a Venezia e comincia la redazione del suo testo più importante, la Gerusalemme liberata. Negli anni successivi si trasferisce a Padova dove studia all'università e poi successivamente però il momento per lui più importante è segnato con l'arrivo nella corte degli estensi a Ferrara nel 1565. Lui fa parte del seguito del cardinale Luigi d'Este e entra nella corte, è un ambiente che a lui lo entusiasma perché diventa subito un membro attivo di questa corte, è amico delle sorelle del principe Alfonso secondo d'Este e ne diviene anche un elemento importante per la cultura, tanto che scrive una serie di poesie ma soprattutto scrive una serie di commedie. Quella più importante è quella del 1573 La Minta, di cui parleremo tra un pochino. Nel 1576 addirittura diventa lo storiografo di corte, ma è proprio in quest'anno che comincia ad avere le prime instabilità mentali. Tasso da questo momento in poi dimostra di non avere una lucidità mentale tale che gli possa permettere di mantenere il suo ruolo all'interno della corte. Da una parte perché il suo testo principe, la Gerusalemme liberata, lo sta facendo totalmente impazzire. Non lo considera un testo mai adeguato, mai adatto sia all'argomento di cui lui va a trattare, ma sia anche alla corte a cui lo deve leggere. Tasso si trova sempre indeciso sui cambiamenti e sulla conclusione di questo testo, tanto che lo porta davanti alla santa inquisizione di Ferrara, il testo viene accettato e lui non lo considera valido perché il risponso ritiene che sia stato troppo blando. Oltre a questa difficoltà nell'accettare il suo testo, Tasso comincia a avere anche delle difficoltà nei rapporti con la corte. Ha spesso scatti d'ira, ma quello che fa diciamo traboccare la goccia dal vaso è quando parlando con Lucrezia d'Este si gira e tira un coltello a un servo che per fortuna lo schiva, ma perché pensa che lo stesse spiando. Questa cosa ovviamente all'arma Alfonso II che decide di allontanarlo presso il convento di San Francesco. Tasso però scappa, si rifugia dalla sorella Sorrento, travestendosi e finge la sua morte, finge di essere un messo che porta alla sorella la notizia della sua morte e dimostrandosi lei distrutta e affranta da questa notizia si fa riconoscere. Sta lì per un po' di tempo, poi si trasferisce a Torino, torna nel 79 durante i preparativi delle terze nozze di Alfonso d'Este, ma dimostrando, facendo una scenata durante proprio questi preparativi, viene definitivamente allontanato e viene mandato presso l'ospedale Sant'Anna dove starà lì per sei anni, dal 1580 fino al 1586. In questi anni la sua fama però invece di diminuire aumenta. Il suo testo che lui ha lasciato a un suo amico, scipione Gonzaga, viene pubblicato in piccoli stralci e tutti lo apprezzano. La critica si divide tra chi lo ritiene il testo, il poema cavallerisco più bello mai scritto, chi invece considera un corario osso superiore, ma lui fa parlare di sé e uscito finalmente dall'ospedale, va via ovviamente da Ferrara, girerà per le città del nord Italia, ad esempio Andramantova, tornerà a Padova, comincerà la redazione della Gerusalemme conquistata che è la definitiva stesura, l'unica stesura che da lui viene approvata della Gerusalemme nel 1593, poi riuscirà ad avere dal Papa una pensione che gli permetterà di vivere in tranquillità gli ultimi anni della sua vita, infatti morirà nel 1595. Per quanto riguarda invece i testi, oltre alla Gerusalemme liberata che vedremo poi nella prossima lezione, sarà un discorso a parte, possiamo dire che di tasso ci rimangono i testi lirici, le poesie, che però sono tantissime, in quanto lui le ha scritte in tutto l'arco della sua vita e non le ha mai poi redatte in un unico testo, anzi molto spesso le poesie uscivano non scelte da lui, ma sono uscite proprio nei periodi in cui lui è stato in manicomio, quindi diciamo che erano i vari amici che poi le pubblicavano. La caratteristica delle poesie di tasso è che non hanno una sistematicità, essendo scritta un po' in tutto l'arco della sua vita, le tematiche principali sono tematiche di tipo amoroso, amoroso erotico, ma ci sono anche delle poesie encomiastiche, perché tasso cercava sempre di farsi benvolere dal signore presso cui veniva ospitato in quel momento, poi abbiamo comunque anche delle liriche di carattere politico, quindi ci sono varie tipologie, tasso però è un grande innovatore da questo punto di vista, perché non segue tutte le regole del petrarchismo cinquecentesco, ma cerca anche di rinnovarlo, ad esempio non utilizza solo i sonetti e le canzoni, utilizza anche i madrigali, quindi cerca di variare, il metro per lui è l'elemento principe per passare la musicalità della poesia stessa, cerca di essere in qualche modo originale e purtroppo però la sua instabilità psichica a volte si legge anche all'interno delle poesie, perché tasso nasconde in qualche modo le sue fragilità proprio nei testi stessi. Altro testo invece fondamentale ed importante è La Minta, che lui appunto mostra al pubblico nel 1573, come vi avevo già detto, è un dramma pastorale, tasso lo rappresenta presso la corte essenze. La storia è molto semplice, A Minta è un pastore, si innamora di una ninfa di nome Silvia, entrambi non conoscono l'arte dell'amore, quindi si fanno aiutare l'uno da Tirsi, che gli dà i consigli, e l'altra da Daphne, che cerca di in qualche modo convincere Silvia ad avvicinarsi a questo pastore. Quando A Minta cerca di prendere coraggio, ritrova Silvia completamente denudata e legata ad un albero, perché un satiro sta cercando di violentarla. Lui riesce a salvarla, ma lei fugge. Per un qui procuo, ad A Minta viene detto che Silvia è stata sbranata dai lupi e a Silvia viene detto invece che a Minta dalla disperazione si è suicidato. E quindi i due praticamente presi dallo sconforto, alla fine si dichiarano amore l'un l'altro e il dramma finisce bene. La storia è molto semplice, in realtà è il significato dietro che è fondamentale, innanzitutto perché Tasso vuole mostrarci come le corti rinascimentali siano ancora importanti e la corte estense sia un esempio per le altre corti. Tasso rappresenta d'altronde uno degli ultimi autori che vivono all'interno di una corte e che hanno quindi ancora bisogno di essere degli artisti cortigiani. Tasso vuole dimostrare che la corte ha ancora tanto da dire. I pastori rappresentano la bellezza dell'essere la corte, una visione ovviamente bucolica di quella che deve essere la corte, mentre il satiro rappresenta la novità, la brutalità, il voler tornare alla natura intesa come un elemento brutale, forte, che è basato su semplicemente l'istinto, mentre la corte rappresenta ciò che c'è di più bello in tutta la cultura, perché la corte è il luogo della cultura, è il luogo in cui gli artisti e i cortigiani possono incontrarsi per fare arte e per parlare d'arte. Dal punto di vista invece linguistico, la Minta riprende sicuramente le poesie liriche provenzali, essi noviste, ma anche i poeti dell'ars di tanti latina, quindi Ovidio ad esempio, ma soprattutto Virgilio. È scritto ovviamente in volgare, ma un volgare curato e elaborato. È vero un dramma da rappresentare in forma teatrale, ma è per lo più un dialogo, le azioni non vengono tanto rappresentate quanto piuttosto raccontate. Poi la prossima volta parleremo invece della Gerusalemme liberata.